Sono vere e proprie sentinelle del territorio che vigilano, osservano e all'occorrenza mettono in guardia su quella che potrebbe rivelarsi una situazione sospetta. A Carpaneto sono più di mille gli abitanti iscritti ai 31 gruppi di vicinato totali, i quali attraverso whatsapp e altre piattaforme di messaggistica si scambiano informazioni e segnalazioni su circostanze potenzialmente pericolose. Gruppi di vicinato che mediante i propri rappresentanti hanno incontrato le forze dell'ordine per parlare di prevenzione di furti e truffe sul territorio. Da quanto emerso nell'ultimo anno, a causa della pandemia, si è registrato un calo dei reati del 7%, anche se purtroppo le truffe, specialmente quelle rivolte agli anziani, sono aumentate del 16%. Il comandante della polizia locale dell'Unione Valnure Valchero, Paolo Giovannini, e l'assistente di polizia Sonia Beccalori, presenti all'incontro, hanno comunque sottolineato l'importanza dei gruppi di controllo di vicinato nella prevenzione di furti e truffe. Carpaneto, oltre alle sue sentinelle, può inoltre contare anche su 12 telecamere a lettura targhe e altre 8 dislocate in punti strategici.